ciao a tutti oggi vedete funzioni? ecco sto telefonando ok ok niente di niente era la suoneria e qui adesso telefono a vivi 0 8 2 4 8 2 4 0 7 3 3 7 9 4 7 ciao vivi che fai? fai compiti ok ti saluto a progione aia non è divertente eh? hm 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 e fermate zitta che fai allora? posso venire oggi a casa tua? sì ci vediamo a casa tua ciao ecco fatto ciao 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 ciao